Riconoscenza per la preziosa attività svolta nello stato della città del Vaticano è stata espressa da Papa Francesco nell'udienza al corpo delle guardie svizzere. Nel salutare le nuove reclute che hanno scelto di spendere alcuni anni della loro giovinezza al servizio del successore di Pietro e prossimi al giuramento, ha ricordato il sacco di Roma e il sacrificio di molti a difesa del Papa. Oggi è affermato non siete chiamati a quest'eroica offerta della vita fisica, ma a servire la potenza della fede, chiamati anche ad essere forti, valorosi e coraggiosi soldati di Cristo. La prima preoccupazione, ha sottolineato il Papa, deve essere la generosa testimonianza cristiana e la santità di vita, oltre alle caratteristiche di compostezza, precisione e serietà professionale che contraddistinguono le guardie svizzere. L'invito del Pontefice è stato anche di vivere questo tempo in spirito di fraternità, in uno stile di comportamento che all'interno del corpo è fatto di reciproca armonia e ha aggiunto rispettosa comunione con i vostri superiori e all'esterno, nell'accoglienza, nella gentilezza, nella pazienza. A rendere ancora più indimenticabile il periodo, sia pure, ha suggerito il Papa, percorrere Roma sulle tracce dei tanti santi e sante che hanno vissuto in città, una vera occasione di crescita spirituale e culturale.